ciao a tutti nuovo video di oggi con una nuova box allora vi parlo un po di questa box che arriva da re belle re trattino belle è un sito dove ci sono queste box ogni mese è un nuovo a un nuovo scusatemi non mi viene la parola a un diverso argomento ecco un minuto questa è la box di settembre ed è la box del cuore cosa 32 euro compreso di spedizione che arriva da roma e dentro ci sono oggetti a sorpresa nel senso ogni mese mettono sul sito l'argomento poi se vi piace le ordinate e quando vi arriva scoprite cosa c'è dentro allora questo me c'è la box del del corpo e l'ho presa poi vediamo cosa arriverà invece settembre c'era questa la box del cuore allora queste box si possono riutilizzare per metterci dentro le cose che volete vi faccio vedere come è fatta da questo lato c'è in carica in carica in carica poi da questa parte c'è il segnalibro questa qua c'è un segnalibro incluso che è questo qui c'è troppa luce ecco lo lascio qua allora ci sono varie parole agape e imat itsu arpok ig e fargin gebor geinheit viraha kafune odal e crisalism questo lo rimetto qui io mi sono persa quella sul giappone ecco che era la prima di prima di questa vabbè lo rimetterò le parole del cuore intraducibili cariche di sfumature in cui riconosci riconoscersi presi in pressito da altre culture qui c'è la spiegazione della box e qua c'è un'altra frase da quanto tempo non ascolti il tuo cuore e quali sono i cuori allora apriamola allora qua poi c'è il booklet ve lo faccio vedere dopo qui c'è il cartone lo toglierò allora vediamo cosa c'è dentro qui c'è dalla parola del cuore la parola del cuore codice morse e choclar tutte abbiamo le nostre parole del cuore parole che racchiudono emozioni persone, momenti, ricordi ogni parola del cuore assume un significato diverso per ciascuno di noi è personalissima fa parte del nostro mondo interiore e del nostro mosaico di vita la tua parola del cuore è stata realizzata in codice morse e prodotto con l'alternanza delle perle giapponesi Miyuki su una delicata catena cobra oro sulla collana c'è scritto qualcosa di importante un messaggio che conosci solo tu potrei portarlo sempre con te mantenendolo però segreto come si fa con le cose davvero preziose questo è il codice morse internazionale con tutte le lettere e i numeri infatti quando abbiamo portato la box hanno chiesto ognuna che aveva comprato la box una parola del cuore che ci rappresentasse io ho scelto AI proprio la lettera AI perché AI vuol dire amore in giapponese infatti qua c'è una perla una perlina azzurda e due palline la A è una pallina e la I sono due quindi A spazio I quindi è giusto poi c'è quella volta che ricordi speciali che sono solo miei gira pagina inizia ah questo è un libricino ah è un dove si attaccano le foto il ricordo legato a questa foto con la data anche questo c'è tutto qui in pratica qua si attaccano le foto si scrive perché e si mette la data ecco questo il sito rebel.com ogni mese poi i prodotti sono fatti da diversi artigiani poi c'è emozioni positive tecniche base per incrementarle corso online di life learning di un regalo se mettesse a fuoco che Clodio Muccinelli con se loro olistico è laureata in psicologia e tiene diversi anni corsi di crescita personale e qua c'è un corso cosa imparerai in questo corso? i diversi tipi di intelligenza compresa quella emotiva quali sono le emozioni primarie riconoscere i pensieri di comportamenti legati ai vari stati emotivi quali sono le modalità di pensiero e come incrementare qualità e quantità delle emozioni positive e qua c'è come accedere gratuitamente poi c'è poi c'era questo libro di Susanna Tamaro una grande sola d'amore poi lo leggerò vediamo di cosa parla Edith e Andrea una giovane un po' trasgressiva è un capitano molto rigoroso si incontrano per caso su un traghetto tra Venezia e la Grecia un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita ma la loro cambia per sempre da prima c'è il rifiuto come possono loro così diversi sentirsi attratti l'uno dall'altro in pratica parla di una sola d'amore e di legami se dovete comprare in Liberia è quasi 17 euro poi c'è sempre questo ok li ho tolti tutti poi qua c'è un pacchettino la prossima box l'argomento era come cambiare il vostro corpo l'ho preso perché voglio vedere che ci sarà dentro ce l'ho fatta allora vediamo un po' cranelle kit di emergenza pillole per il cuore da usare nelle giornate più amare per un'immediata ricarica di dolcezza e delle agrumi qui dentro è fatta così normalissima poi c'è questa targhetta di legno il calendario del cuore con i mesi e un cuore e poi vediamo cosa c'è dentro c'è un filo grigio e poi dentro ci sono tutti questi cuori fatti in ceramica bianca con i due buchi e anche dei rotondi fatti di legno con i due buchi e poi ci sono anche dei anellini di metallo allora vediamo un po' allora beh il libro di Susana Tamaro sapete che Susana Tamaro è una scrittrice poi c'è officine creative è quella del calendario di prima che vi sto facendo vedere qui si mettono tutti rotondi e cuori con le date leggiamo in legno e ceramica da comporre man mano con le due date importanti nel kit trovi la base del calendario da appendere è una bustina con cerchietti in legno cuoricini in ceramica e anellini in metallo si appende la targa e poi tramite gli anellini si inseriscono i cerchi e i cuori sotto i mesi sopra puoi scriverci il giorno una data importante e si può aggiungere anche altri pezzi poi c'è Peppi che ha fatto la collana del codice Morse si chiama Rachel è una mamma inglese ed è un'artigiana poi c'è Armilla che ha delle caramelle e arrivano da Lucca poi c'è Life Learning che è il corso ok e chi vuole stampare le foto c'è il sito cheers.it e c'è il codice regalo e qui si parla di Rachel Winkle che è quella che ha fatto la collana e qua ci sono tutti i riferimenti per seguirla e basta ok in questa box mi è piaciuto vabbè le caramelle che mi piacciono tanto il libro che leggerà questo non lo so se farlo o no con le foto il corso non neanche perché vedrò e la collana è molto semplice non è niente di che però è carina l'idea e il calendario lo terrò ma non penso di farlo ok se volete seguire le box sul sito rebelle.com re-belle.com per questo video è tutto mettete un pollice all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao